salve cari amici ed eccoci qui con la seconda edizione della nostra rassegna stampa la rassegna stampa edita da rst sa iuz e pianeta oggi tv oggi il 25 gennaio 2018 e questa è la seconda edizione iniziamo subito con la lettura degli articoli milano treno di treno nord de raglia pioltello tre morti e 46 feriti ha ceduto un binario stava per essere sostituito le due carrozze centrali del convoglio sono uscite dai binari e si sono accasciate su un lato per oltre tre ore i soccorritori hanno lavorato per tirare fuori i passeggeri rimasti incastrati tra le maiere la procura ha aperto un fascicolo per il disastro ferroviario colposo è escluso il malfunzionamento degli scambi segnalato un cedimento strutturale di 20 centimetri di binario circa due chilometri più indietro sala dice basta ogni con bassa sogni sciocchi come il ponte sullo strette legambiente dice una delle linee peggiori la cei ribatte si parli di sicurezza cari amici continuiamo la nostra resegna stampa regionali lazio stefano parisi candidato del centro destra guida stabile e sicura dice è una scelta difficile ha spiegato il leader di energie per l'italia su facebook perché tanti di voi hanno lavorato per costruire le liste e la nostra presenza le elezioni per camera e senato è divenuto ora incompatibile il pd dice per loro la pisana è solo moneta di scambio conti pubblici il di wealth scrive l'italia è messa anche peggio della grecia poca speranza dai programmi elettorali secondo il quotidiano tedesco solo riforme radicali come in grecia potrebbero cambiare qualcosa tuttavia nessuno dei dipendenti e contententi alle elezioni le ha previste beh in effetti non sappiamo niente cosa vogliono fare ci dicono tante cose ma poi alla fine elezioni in sardegna sono accusati di peculato ma il pd vuole candidarle il partito di matteo renzi sembra intenzionato a far correre per un seggio sicuro in parlamento gavino manca e silvio lai sono accusati di peculato aggravato per l'utilizzo dei fondi destinati ai gruppi nel consiglio regionale sardo il 13 febbraio prossimo il gruppo di cagliari deciderà sulla richiesta dell'invio a giudizio avanzata dall'accusa nei loro confronti e qui è una questione di etica non dico nient'altro elezioni a torino il pd fa fuori il deputato boccuzzi ex operai ottissen e simbolo dei diritti dei lavoratori quasi certa invece la candidatura al senato del presidente del consiglio regionale mauro laus ex numero uno delle della cooperativa rear più volte al centro di polemiche sulle condizioni lavorative dei dipendenti come voleva si dimostrare cari amici insomma quelle che ho letto sopra e quelle che ho letto adesso quindi a voi l'ardua sentenza cari ascoltatori bene con questo è tutto vi diamo appuntamente alla prossima rassegna stampa vi ricordo che la rassegna stampa edita da rst saius e pianeta oggi tv buon ascolto con i programmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti